Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Allora, in questo video di oggi vorrei fare alcune riflessioni insieme a voi, partendo da un breve post che è stato scritto dal maestro Ludovico Ciccarelli, che tra l'altro è il maestro con cui mi vedete nel mio attuale avatar, perché ho preso parte qui a Vigevano, dove abito, ad un seminario in cui lui era docente. Quindi sto parlando proprio del maestro con cui mi vedete nella mia attuale fotoprofilo. Questo è un post breve che ha scritto, ma ovviamente adesso vi farò anche delle mie riflessioni dicendovi perché condivido il suo pensiero e che cosa penso io di questo argomento. E torna a parlare del rapporto tra maestro e allievo, come già avevo fatto in un precedente video. E qui il maestro Ciccarelli scrive Un maestro dedica molto tempo alla formazione di un allievo, come un allievo dedica molto tempo a seguire un maestro. Poi arriva il momento del distacco. Un allievo deve fare la sua strada anche senza necessariamente avere a fianco il proprio maestro. C'è bisogno di questo per crescere e verificare la propria conoscenza. Anche guardarsi in giro e frequentare altri insegnanti è necessario per poter capire, comprendere e sapere qual è il percorso che dovrà essere fatto. Ciò non toglie che l'allievo dovrà sempre portare rispetto per il proprio maestro, cercando in ogni caso di trovare delle occasioni per mantenere un contatto ed un equilibrato rapporto. Questo è indispensabile per entrambe le parti al fine di conservare ed alimentare quel tocco di scambio nel quale ognuno cerca di dare il meglio. Difidiamo di coloro che dicono sono allievo del maestro, segue nome, e poi non seguono lo stesso. Forse è meglio affermare sono stato allievo del maestro e finisce lì, serenamente. Seguire un il maestro impresa ardua è necessita di passione e sacrificio. Ma se lo avete trovato nella vostra vita sarebbe uno sbaglio abbandonarlo. Un legame vero va vissuto, anche lontano da lui. E questo è un aspetto molto interessante. Devo dire che questo pensiero del maestro Ciccarelli lo condivido in pieno. Anche perché sapete, io dico sempre questo, che un maestro deve essere una guida, un riferimento, ma mai un padrone. Attenzione, che è molto diverso. Infatti, quante volte, soprattutto noi che siamo avvezzi a questo mondo così complesso, affascinante del karate, tante volte sentiamo di maestri che rimproverano i propri allievi magari per il solo torto di aver partecipato ad un seminario con altri maestri e quindi aver voluto arricchirsi. Beh, ragazzi, questa è una cosa che se mai io dovessi fare, se dovessi diventare maestro, guardate che il maestro Funakoshi mi fulmini, veramente. Perché, insomma, a parte che non lo farò mai, ma qualora io dovessi fare una cosa del genere con un mio allievo, veramente che sensei Funakoshi mi fulmini, perché, insomma, è un atteggiamento, questo non soltanto sbagliato, ma va a ledere anche proprio la libertà della persona. Anche perché tu non puoi andare, ovviamente tu sei un maestro, sei una guida, ma mai un padrone, quindi non puoi mai andare a... non puoi avere diritto di vita e di morte sul tuo allievo, su quella persona. Cosa che purtroppo, scusate se lo dico, ma purtroppo è una cosa che molti maestri hanno, ahimè. Non è il mio caso, per fortuna, perché io sono sempre stato in ambienti in cui c'è stata una certa libertà, pur rispetto a libertà, nel senso di poter prendere parte anche di seminari con altri maestri, ma comunque, ripeto, questa è una cosa che faccio anche io, infatti io giro per l'Italia, faccio un sacco di giri per partecipare a seminari vari, però questo ovviamente lo faccio sempre nel rispetto della mia scuola, sempre nel rispetto del del mio maestro e seguendone ovviamente tutti i principi, seguendo sempre tutti i principi della scuola a cui appartengo. Però dall'altra parte ritengo che bisogna anche essere liberi di poter fare esperienze, appunto, come dice questo breve post del maestro Ciccarelli, no? Appunto guardarsi in giro, frequentare altri insegnanti, questo è necessario, questo il maestro Ciccarelli lo sottolinea ed è una cosa che, ripeto, condivido in pieno perché, secondo me, frequentare altri maestri in maniera estemporanea in occasione di seminari, ripeto, non è una mancanza di rispetto verso il proprio maestro, ma è una voglia di arricchirsi, una sorta di sete di conoscenza, cosa che però a molti maestri non sta bene, come sappiamo. ce ne sono alcuni che proprio si arrabbiano se qualche loro allievo partecipa ad un seminario e che cosa avrà fatto mai? È andato in giro a spacciare droga? Ha ammazzato qualcuno? No, ragazzi. Ha semplicemente arricchito il suo bagaglio tecnico-culturale ed in questo io non si trovo assolutamente nulla di male per cui mi trovo in piena sintonia con questo pensiero del maestro Ciccarelli che sostanzialmente ci dice questo almeno da quel che ho capito che un maestro è una guida che deve indirizzare l'allievo ma deve anche lasciarlo camminare con le sue gambe e lasciarlo libero di fare esperienze e questa è una cosa molto importante ed è un concetto che io cercherò di applicare assolutamente che applicherò assolutamente quando diventerò maestro magari quando aprirò una mia scuola perché questo è un po' il mio sogno chissà spero sia veri tra parentesi io già sto facendo esperienza di insegnamento con i bambini perché sto aiutando il mio maestro quindi insomma pian piano mi sto avviando diciamo anche verso l'insegnamento anche se la strada è ancora lunghissima però tornando al tema principale ecco il concetto è questo lasciare liberi i propri allievi di fare esperienze secondo me è molto importante anche perché apre la mente e apre a nuovi orizzonti per cui io diffiderei scusatemi da tutti quei maestri che dicono no tu quel seminario non puoi andarlo a fare perché perché io non voglio ragazzi un maestro di karate non è un padrone c'è una bella differenza tra maestro e padrone io penso di aver interpretato cioè spero di aver interpretato correttamente il pensiero del maestro Ciccarelli insomma ovviamente scrivetemi anche nei commenti che cosa ne pensate qual è la vostra opinione in merito bene io ho terminato questo mio video di oggi se il video vi è piaciuto mettete like come vi dicevo prima commentate fatemi sapere cosa ne pensate condividete se volete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale io vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti